Il terreno provare la volata finale verso il primo posto, complicata ma matematicamente possibile. Ovviamente Pesaro cerca tre punti per inseguire la salvezza diretta che è laterale in favore della Felti. Con una conclusione dello stesso numero 24, Putano è attento e blocca. Quintetti iniziali che sono gli stessi che vedete adesso in campo, Putano sale, palla al piede, l'imbucata centrale, scivola sul piede d'appoggio, Guillermau non può controllare, siamo già dalla parte opposta con rilancio, testa di Fante Sele, con questa laterale nel cuore della difesa, Guillermau lotta con Schiochea che esce fuori su Calderoli, destro la parata di Putano, la palla resta in campo e allora gioca alta della classifica, ma attenzione alla reazione della Felti che assolutamente non ci sta, buona la giocata, si accentra, Calderoli vince un contrasto, calcia ma trova le mani. Momentaneo 1-0, qua è stato pericoloso ma ha trovato l'opposizione della difesa del Pesaro, mentre qua è Putano ad alzare le braccia e con le mani a mandare il gol di Canale, con tre minuti per il raddoppio. Fuori, fuori, fuori! Dai, mi piace, dai! Entrambi ovviamente hanno una stazza fisica importantissima, invece c'è il numero 13 da qualche istante in campo, Luca Spraga, bella girata volante, pallone, si velita al service Pesaro a caccia del gol del 2-1, a caccia della rete che dimezzerebbe lo svantaggio. Sare, qualche protesta in area, per un tocco forse con un braccio, lasciano correre i direttori di gara, riparte subito Pesaro, Doni Dandella prova ad approfittare, scivola, Fante Sele, Deuilevera vicino al 3-0. Che giocata difensiva di Fante Sele, della serie, crederci sempre fino in passaggio al centro dell'area. Intervento difensivo da parte del numero 31, Ruana Flan, che ora torna a riposare in panchina, perché in campo c'è di nuovo Morillo Schiochetto. Attacca la Feldi dal CIN. Buona la giocata da parte di Restaino, rientra sul sinistro e calcia, tiro però strozzato, facile la parata di Putano. Cattoni Dandella qua, credo abbia sbagliato l'arbitro. Mi era sembrato del capitano del Pesaro l'ultimo tocco, si riprende invece col possesso Pesaro. Capunigro che è tornato in campo. Rischia qua qualcosa dal CIN, ma se la cava e fornisce un assist molto prezioso a Capunigro, che va al tiro della Feldi. Per l'1-0 delito a service Pesaro, e poi il raddoppio di Canal. Calcia nel frattempo Fante Sele, blocca Putano. Lungolina, Chito la prova e... Calderoli contro Putano. La rincorsa del numero 11, destro, Rete di mezzo allo svantaggio. Calderoli, Fante Sele, punta Pires, calcia! Putano vede questo Bolli da arrivare da lì. Calderoli allarga, Guillermau faccia a faccia con Tony Dandella. Le sue finte, sinistro e Putano. tocca prima che la palla sia uscita. Guillermau cerca un appoggio che non arriva. Pallone messo dentro, Putano chiude il primo palo. Ale temporaneamente a 5. La Feldi si allarga dal CIN, crea la superiorità. Dal CIN, spazio, calcia! Putano tocca il pallone. Riuscito a deviare il pallone. Siamo entrati negli ultimi 100 secondi del primo tempo. Tony Dandella, Putano, taglia Ruan. Il lancio invece verso De Oliveira. Dal CIN riesce a bloccare il primo tempo. Fantastico! 19 secondi alla fine. Putano lancia verso De Oliveira. Gran controllo, come al solito. Da Calderolli si va da Fante Sele. Si accentra. Calcia. Deviazione di tacco di Guillermau. Gesto tecnico straordinario. Putano è chiamato a testare i suoi riflessi. Lo fa molto bene. Era posizionato alla perfezione. Ha dovuto indirizzare un po' la palla fuori dallo specchio della porta. Le finte di Fante Sele. Non la bocca schiocchetta. Però il pallone arriva comunque a Guillermau. Allì mette ancora Fante Sele. Trova il pertugio giusto. E la pressione forte della Feldi Eboli viene. Occasione De Oliveira. Palla scoperta. Il numero 77 della Feldi Eboli. 6 minuti e 9 secondi. Punteggio che si è aggiornato. 4-2. Prova la crobazia. Questa da concludere per il numero 14 dei campani. Si arrabbia Colini. Lo vedete in primo piano. Buono lo stop di Juan Alflen. Sulla ritiene di essere stato trattenuto dal PV della formazione ospite. Duelli su duelli. Giocate su giocate. Una partita di altissimo profilo. Tony Dandello. Putano. Lancio per Pires. Di testa prova a mettere giù. Alla fine riesce. Calcia Calderolli. Solo l'illusione del gol. Palla che sbatte sull'esterno della rete. Riceve i complimenti dei suoi compagni qui davanti. De Oliveira. Alderolli. Balla per Caponigro. L'imbucata. Riesce in qualche modo a calciare Guillermo. Ma ogni volta devo concentrarmi bene per capire chi sia fra lui. Ultimi dieci minuti di match. 9 e 55 per la precisione. Qua era a calcio d'angolo in maniera evidente per la Feldi Ebole. 5 a 2 per l'Ital Service Pesaro dopo il gran parata qua di Putano sul destro a incrociare di Calderolli. Appoggia all'indietro Caponigro. Massimo sforzo per la Feldi Ebole ma anche per l'Ital Service. di scalcia Braga ancora Putano stavolta con il corpo poi lancina avanti c'è Dalcin in posizione avanzata tentativo della Feldi gioco ripreso ovviamente 6 minuti e 45 secondi alla lancio di Putano D'Ulivera D'Ulivera che può riprendere con il lancio di Putano per D'Ulivera palla riconquistata e adesso d'accordo che nel calcio 5 è sempre tutto possibile fino alla fine ma mancano 2 minuti 50 secondi e 50 secondi la Feldi deve rimontare Putano titola rischia tantissimo Putano fa una parata un minuto e 26 al termine Putano in avanti per Pires la incolla a terra prova il dribbling bella giocata Dalcin la rimessa da fondo campo di Talzernis Pesaro 33 secondi Putano per Pires chitola finta la chiusura di triangolo avanza